Musica Proprio nell'anno che vede il ritorno dei motori turbo in Formula 1, una tecnologia assai cara ai tecnici della francese Renault, la casa della Regi propone un'edizione speciale della propria compatta super sportiva Clio RS, che trae ispirazione dal mitico circuito del Principato di Monaco. La Clio RS si fa ancora più elegante con la versione limitata Monaco GP, per ricordare appunto l'eleganza della riviera francese, un bianco dedicato con tanti accorgimenti stilistici neri su questo bianco e all'interno un contrasto tra nero e grigio che rendono l'abitacolo ancora più elegante. È un RS, un Aronio Sport a tutti gli effetti, con un 1.6 turbo da 200 cavalli, un motore estremamente competitivo, che ha tante chicche che rimano dal mondo della Formula 1, come l'RS Monitor, che permette di registrare i dati della performance della vettura, oppure il Launch Control, che permette di gestire la partenza da fermo. La tiratura della Clio RS Monaco GP non sarà infinita, al contrario si tratta di un'edizione limitata e dunque gli appassionati del genere sono avvertiti. È un'edizione limitata che andrà a rafforzare la gamma attuale di vetture RS. Noi contiamo sull'abbinamento eleganza e sportività per avere un successo con questa vettura. Sarà lanciata questa edizione limitata a fine marzo in Italia a 24.950 euro. Ah, grande prova l'insegna della sportività con questa Clio RS, ma è una Clio RS davvero speciale. La Monaco GP, dedicata proprio al Principato, qua ci troviamo. E questa Clio è davvero sorprendente non solo per le prestazioni, ma merita attenzione per un tocco di eleganza legato proprio a questo gioco di contrasti cromatici. Grazie per la visione!